e ciao a tutti ragazzi bentornati qui siamo su minecraft oggi perché fare una copia del mondo di stepney che aveva messo online tempo fa ho detto beh inizio fa visto che sto facendo l'aggiornamento in nether apro l'aggiornamento in nether nel suo mondo andando a ricreare facendo una copia più fedele possibile al suo mondo quindi sono imparato a memoria più o meno dei suoi video e sto cercando di riprodurlo fedelmente quando sono apparsi guardate lì la con gli infami guardate da dove vengono non lo so mi sono trovati così di fronte proprio mi sono trovati e si è messi male non abbiamo armi non abbiamo cibo non abbiamo niente ho spianato soltanto e fatto la costruzione poi ci sarà il portale del nether che aveva fatto il tempio non so se vi ricordate chi ha visto la sua prima serie questa è quello che ci permetterà all'erba di salire fin sopra e qua ci sarà intanto la casa poi verrà spazio ha fatto tutta la piattaforma ferrovia farm automatica e tutto 30 ci sono quegli infami che devo capire da dove vengono quello è un villaggio quello è un villaggio quello là probabilmente se ci sono in giro loro non ci sarà più nessuno la però dov'essere una cosa vantaggiosa allora fatemi vedere un attimo come siamo messi siamo messi male siamo messi perché semplicemente siamo messi male punto c'è non ci sono spiegazioni ma sto pensando potremmo andare stato prende un po indietro quindi la scavata e creare la nostra camminiera che mi pare che avevo già minciato qua esatto però mi saranno le scale mi saranno le scale dove facciamo le scale ma non c'è non c'è non c'è c'è dubbio steccozza qua ah sì poi uno zombie mi ha droppato una carota che la piantiamo subito che così almeno siamo sicuri di non perderla eccola qua ho pianto la canna da zucchero lì e basta non c'è nient'altro qua un po di ghiaia che avevo preso che c'era qua sopra non c'è niente non mi ricordo più che dovevo fare nel piccolo dobbiamo prendere un po di piede quindi andiamo di là prendiamo la piedra dalla parte di qua che è più comodo senza da scavare ok intanto che c'è un po di carbone prendiamo anche il carbone che ci serve per fare le torce è un po cambiato il suo mondo in realtà cioè qua c'aveva la sua stagione c'era una lingua di terra c'era un po diverso faccio reale del vulcano a cascata è un po cambiato però l'impronta comunque il sito è spesso ha cambiato un pochino impostazione materiali vabbè ma quello non ci importa comunque sembra abbastanza fedele ovviamente cambiando adesso mi vengono fatti vari aggiornamenti che tutte queste cose qua c'è altro carbone ancora la in giro quelli che volevo prendere giusto prendendo giù che mi sono trovati addosso ok prendiamo il carbone per farlo quanto carbone c'è quanto carbone c'è abbiamo quanto carbone c'è potrebbe aver visto da qualche parte del ferro non ricordo dove però c'era del ferro adesso morendo ma il suo ferro 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 dov'è essere una grotta con un po di farro non mi ricordo se era qua forse era qua sotto può darsi si infatti qua c'era un po di farro e ci sarà lì sento che c'è anche una grotta in vicinanza perché siamo vicini con questa già venuta notte quindi dobbiamo sbrigarci tra un po di farro e saliamo alla sveglia andiamo a dormire tutto il vetro abbiamo prima abbastanza dai era più o meno così mi sembra non era grandissima era abbastanza piccola infatti abbiamo già finito i materiali ma questo non ci fermerà loro ci fermeranno mancano quattro vabbè stesso dovevo cuocere la carta ok poi ci serve al portale del neve ve l'ho già detto e poi ovviamente off camera andrò avanti e scaverò andrò fin giù in miniera vi farò poi vedere tutti i materiali che prendo fammi se potesse farmi un arco lì sono lì che cercano proprio tanto fin qua non riescono a salirci per quello l'arco come procede un po rilento vabbè abbiamo le nostre due costolette e ci mangiamo ok a posto poi stavo pensando ci possiamo fare una spada in farro quasi quasi possiamo fare ci aiuterà questo il futuro immediato no 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 Grazie a tutti. Mi ricorda. Ok. Ecco come crescono le canne da zucchero. L'erba cresce troppo lentamente. Ma ci possiamo fare un bel secchio. Ok, abbiamo il secchio adesso, poi ci possiamo fare una fonte d'acqua infinita, queste cose le chiudiamo, dovrò girarle, qua c'è altri tre di ferro. Molto bene, molto bene. Mettiamo qua, è sicuro. Questa mettiamo qua, quando avremo tutto siamo a posto. La ci sono le mucche, molto bene, a posto. Per questo episodio è tutto. Mettete qui lasciate un like e condividere tutto qui. Ciao. 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 Ciao.